Si chiamava Eva Williams, aveva 10 anni di età, era una bambina spensierata, una bambina che però non ce l'ha fatta, è morta per colpa di un tumore e non ha potuto viaggiarsi per andare a curarsi. Doveva ricarsi a New York, la grande mela del Regno Unito, per provare una cura sperimentale che potesse darle delle possibilità in più di sopravvivere a quella malattia aggressiva e rara che purtroppo l'aveva aggredita. La famiglia pensate che aveva raccolto più di 300.000 sterline, però le restrizioni dovute al Covid-19 e al coronavirus non hanno permesso alla bambina la partenza, di conseguenza non ce l'ha fatta. Non è riuscita infatti ad arrivare lì dove la cura sperimentale doveva tenersi, ossia al Regno, cioè a New York, la grande mela del Big Apple, come viene chiamata usualmente parlando dagli americani. Non ce l'ha fatta, morì da soli 10 anni di dieta, questo è un danno che si è causato. Questo è responsabile ovviamente la precedenza, no? Perché quando si ha a che fare con una sanità, è chiaro che questa sanità nella maggior parte dei casi viene a essere garantita per i casi più gravi. Quindi parliamo di casi di Covid-19, di coronavirus. Stessa tenere presente che ci sono anche però delle realtà, delle malattie importanti come i tumori, che purtroppo oggi ancora provocano la morte. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua. Un saluto caro da Leandro, il narratore italiano. Eva Williams, riposa in pace. Grazie a tutti.